Eccolo qui Non mi piace il suo maglione Grazie per essere venuti Soltiamo i convenevoli Passiamo le armi, eh? Allora? Diamo un'occhiata alla merce? Venite fuori, ovunque voi siate Non è quello che abbiamo ordinato Non sei molto garbarato? Ci stai provando? Dice che non è quello che ha ordinato Avevo chiesto degli M16 Davvero? Senti, io non consegno pizza a domicilio Queste armi le vuoi o non le vuoi? Ma che cazzo di accentuè? Io credo sia Svizzera o roba simile Austriaco Hai ragione, è austriaco Sei un uomo morto, Vernon Figlio di fu... Ah, il mio vestito! Cercate di calmarvi tutti quanti! Aspettate di sparare! Adesso stiamo esagerando! Cristo santo! Ma da quale parte sto? Sei di profumo! Che cazzo! È olio da barba! Ti faccio saltare la testa? Mi sembravi una brava ragazza. Non siamo tutte brave ragazze.